Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Signore onnipotente ed eterno, noi supplichiamo la vostra immensa bontà di venirci in soccorso affinché, per i grandi meriti di Sant'Anastasio, ogni paura, ogni timore, ogni angoscia sia debellata dalla sua santa benedizione. Fate o Signore. Che i demoni del terrore siano messi in fuga, e che tutti i malefici e i flagelli da essi causati cessino all'istante. E che infine gli angeli della pace ci custodiscono fedelmente. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.